da barbareschi ad amadeus tutti gli interrogativi e i casi aperti della nuova rai meloni tra polemiche e voglia di controllo dici rai dici polemiche questa volta la bufera si è abbattuta su luca barbareschi e sulle parole pronunciate dal conduttore della trasmissione in barba tutto in onda su rai 3 nel corso di un'intervista il 9 maggio scorso le attrici che denunciano molesti e cercano pubblicità punto il riferimento di barbareschi era chiaro il conduttore parlava di amleta associazione che contrasta la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo stando a quanto riportato dal corriere della sera due consiglieri di amministrazione dell'emittente pubblica avrebbero avanzato la richiesta di bloccare la seconda edizione del programma previsto dai piani di produzione e trasmissione 2023 del genere cultura scrivendo una lettera alla presidente della rai marinella soldi contenente le motivazioni di tale richiesta i due consiglieri sono francesca bria e riccardo lagana le parole di barbareschi sono state definite oltremodo gravi da entrambi che chiedono che alla luce delle polisi di valorizzazione e tutela delle donne volute e sostenute con fermezza da questo sada nonché per evitare danni di immagine e ulteriori polemiche per il servizio pubblico sia valutato dagli attuali vertici la cancellazione del programma in oggetto i due inoltre hanno aggiunto che preferirebbero vedere il budget previsto essere destinato a un programma di approfondimento sul tema della violenza sulle donne la violenza sulle donne